ecco momento storico non è molto deciso l'alberto non è sicuro cosa vuol dire quel pezzo di finale basta e alla fine la soluzione la troverò ora si è arrivato dai vai vabbè vabbè andiamo un po nei dettagli e vabbè alberto un po di indecisione il sommo l'immenso ingegnere non è da meno ingegnere mitico semmolo neo 18enne dos vabbè solito allupato incontenibile jacopo ormai in fase d'astinezza in fase discendente